Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con una notizia riguardante la ricerca di personale da parte del nostro ente comunale. Sul sito istituzionale del comune di Fagnano-Lona è apparso in questi giorni il bando di concorso per un posto a tempo pieno indeterminato nell'area tecnica. Per chi fosse interessato e abbia i requisiti necessari per partecipare, sul sito internet, proprio in quella sezione trova tutte le informazioni necessarie per iscriversi e partecipare al concorso pubblico. Gli eventi del fine settimana prosegue la festa della birra organizzata dal Capuziner all'interno dell'area feste del nostro comune per tutto il weekend, mentre sabato e domenica allo spazio Ocium di Via Patrioti ci sarà la mostra personale di Gabriele Betti dal titolo Il Mio Mondo. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!